Con ben quattro squadre, tre maschili e una femminile, l'associazione sportiva Passione Tennis Sciacca si schiera ai nastri di partenza dei campionati regionali di serie D3, che cominceranno questo fine settimana. Questa è la composizione delle varie squadre. In D3 femminile, la squadra saccense è composta da Francesca Abate, Clelia Bilello, Giulia Gulisano e Nicoletta Brezoi. In D3 maschile, squadra A, Paolo Armenio, Gaetano Marretta, Claudio Logreco, Davide Marciante e Francesco Lupo. In D3 maschile, squadra B, Salvatore Palumbo, Gianluca Sciara, Calogero Tancreti e Antonio Calcara. In D3 maschile, squadra C, il presidente David Emmi, Enrico Emmi, Nicolò Di Prima, Francisco Wester e Giuseppe Ruffo. La prima giornata prevede domani gara in trasferta a Favara per la squadra C maschile. Esordio castalingue, invece, per la squadra A maschile contro il tennis club Ragalmuto e per la squadra B maschile contro il Favara C. La squadra femminile, infine, è stata inserita nel girone 5 e l'esordio sarà oggi a Raffadali. E passiamo a calcio giovanile. Appuntamento a Barcellona Pozzo di Gotto questo pomeriggio per il Ginnik Club Stadium, che andrà a giocarsi il ritorno della finale Under-15, valevole per accedere al campionato regionale di categoria. La partita di andata era terminata sullo 0-0. Il suo dalizio spera di poter ottenere tale risultato al culmine di una stagione comunque molto positiva. Mercoledì 5 giugno, invece, gli esordienti di mister Galenci disputeranno la finale interprovinciale del campionato Oasi sul campo neutro di Menfi. Giocheranno contro il Ribera 2013 di mister Vincenzo Montalbano, soddisfatto per la stagione fin qui disputata il presidente Pippo Montalbano. Spazio alle arti marziali. Domani, l'atleta della Karate Judo Club Michele Catanzaro sarà di scena a Roma, presso il Centro Olimpico Pala Pellicone di Ostialido, dove prenderà parte al secondo Memorial Andrea Nekofar, gara nazionale targata Filcam. Catanzaro gareggerà nella specialità Kata Master A. Si tratta dell'ultima tappa, prima degli europei Master Game, che si svolgeranno prossimamente a Torino. E chiudiamo con il volley femminile. La squadra saccense, guidata da Nino Marchese, si gioca oggi, in partita secca, la finale play-off di prima divisione contro l'Alcamo. Chi vince compie il salto di categoria in Serie D. Il match si terrà a Castelvetrano. Il volley club Shaka sarà seguito da numerosi appassionati e tifosi per sostenere la squadra in questa difficile finale. Per le saccense si potrebbe profilare il ritorno in Serie D.